Proprio oggi si presenta a Bolzano il libro Cuore alpino per l'Abruzzo. L'ha reso conto di sei mesi di impegno dopo il terremoto dell'Associazione Alpini in Abruzzo, oltre 8.500 volontari, ma soprattutto la costruzione del villaggio di Fossa, la donazione di tantissime opere ai nostri gruppi, alle nostre popolazioni, ai singoli cittadini. Ma il segnale di una grande amicizia, di una grande solidarietà che è nata tra il popolo alpino, il popolo aglilano e il popolo abruzzese. E' nel nome di questa solidarietà, di questa grande amicizia che noi abbiamo chiesto la donata nazionale nel quinto anniversario del sisma nel 2014. E su questo stiamo lavorando. Proprio oggi il Presidente Centi dell'Anci mi ha consegnato le schede di oltre 20 comuni che mettono a disposizione infrastrutture per ospitare gli alpini, un grande segnale di partecipazione. L'altro giorno abbiamo avuto la riconferma del percorso della legge regionale che sta per vedere la luce. Speriamo in tempi brevissimi perché abbiamo bisogno anche di cominciare a essere operativi nell'attività di promozione a livello nazionale. La sede l'abbiamo ormai installata, preparata, la stiamo sistemando per il meglio e siamo pronti a partire. Quindi questo comitato ha lavorato benissimo, sta lavorando. Adesso ci aspettiamo soltanto una grande partecipazione a Bolzano perché noi abbiamo l'ardire, se vogliamo, di portare il nostro tricolore di 99 metri a Bolzano, farlo sfilare il sabato precedente alla sfilata e vorremmo che fossero in tanti, tantissimi alpini abruzzesi ci saranno sicuramente, ma fossero anche degli aquilani che venissero a darci una mano per portare questa speranza, questa voglia della donata all'Aquila a Bolzano e soprattutto come momento di grande ringraziamento a tutti gli alpini italiani che si troveranno a Bolzano per la donata nazionale.